Lavoro, infrastrutture, autonomia differenziata, ma ancora terzo settore, giovani e spopolamento. Sono stati questi alcuni dei temi trattati durante un incontro che il Partito Democratico di Basilicata ha organizzato con le tre maggiori sigle sindacali della regione. Solo tramite il confronto si possono trovare soluzioni ai problemi. Su questo assunto il segretario DEM Giovanni Lettieri con i tre consiglieri regionali Piero Lagorazza, Roberto Cifarelli e Piero Marrese hanno ospitato i segretari generali di CGL Cisle Will, Fernando Mega, Vincenzo Cavallo e Vincenzo Tortorelli. Bisogna confrontarsi con le forze e le energie vive della Basilicata, partiti politici, sindacati, associazioni imprenditoriali per produrre delle proposte che possano tirar fuori la regione dalle secche in cui questo centrodestra l'ha portata. Il sindacato farà la sua parte senza preconcetti. Noi ci sediamo al tavolo e vogliamo discutere, stare seduti al tavolo fino alla fine. La CGL con gli inviti di tutti. Noi apparteniamo a un campo valoriale antifascista, dialoghiamo con tutti. L'altro ieri abbiamo incontrato il presidente dell'Aggiunta regionale, abbiamo incontrato chiunque dell'arco costituzionale democratico si voglia confrontare con noi. Particolare attenzione è stata riservata sulla questione Stellantis. Stellantis è la madre di tutte le vertenze. Il rischio è di 10.000 posti di lavoro che possano mettere a rischio la tenuta sociale della nostra regione. E poi tutti i temi che da tempo si stanno portando avanti. RMI e TIS, la platea delle 1600 persone che aspetta una risposta.